Una introduzione da Silvia Di Giacomo Leopardi Leopardi, nello zibaldone, fa una riflessione sulla bellezza delle ragazze adolescenti, ma veramente una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel viso, nei suoi moti, nelle sue voci, salti, ecc. Un non so che di divino, che niente può agguagliare. Io non conosco cosa che più di questa sia capace di elevarci l'anima, di trasportarci in un altro mondo, di darci un'idea di angeli, di paradiso, di divinità, di felicità, zibaldone, appunto del 30 giugno 1828. Test su A Silvia Di Giacomo Leopardi Scopri quanto ne sai su questa poesia Silvia aveva proprio questa età quando morì, Silvia, o per meglio dire, Teresa, perché il motivo biografico di questa poesia è la morte per tisi polmonare, nel 1818, di Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi. Non sappiamo se Giacomo fosse innamorato di Teresa, ma piace pensare che sia così, o, comunque, non commettiamo alcun torto a immaginarlo. Possiamo immaginare la scena, Teresa che vive nel mondo, nelle vie d'intorno e Giacomo chiuso nella casa paterna. Una barriera sociale ed esistenziale li separa. Lei popolana, lui nobile, lei spensierata e semplice, lui sempre un po' accigliato, nella sua biblioteca, solitario. Eppure hanno, in comune la stessa esuberanza e la stessa identica voglia di vivere e di felicità. Il poeta, con un colpo d'ala, supera il motivo biografico e recupera l'allegoria, quale figura retorica determinante per la sua speculazione. Ricerca, filosofica, per i filosofi tutto deve avere significato. Teresa viene chiamata Silvia, la ninfa protagonista della minta di Tasso, e diventa non solo la Teresa di Leopardi, ma esempio di tutti i sogni giovanili infranti da una morte prematura. La morte, la sofferenza, il dolore sono sempre ingiusti e il poeta non si rassegna questa ingiustizia. Pensiamoci bene, quando muore un anziano, sentiamo spesso dire, era vecchio, ha fatto la sua vita, è morto serenamente. Ma quando muore un giovane, che risposta dare? Qual è il significato di una vita spezzata prima della sua fioritura? È impossibile rispondere. Leopardi denuncia allora la natura, è lei colpevole. Anche il poeta, e questo è il confronto con Silvia, nel suo io lirico, è pieno di rimorsi, egli diventa allegoria di tutte le giovinezze, sprecate in vano, lontane dalla gioia e dal piacere, in una solitudine in parte scelta, in parte imposta dalle circostanze e dalla natura. Due a Silvia, testo e parafrasi Metro, canzone libera di indecasillabi e settenari Testo Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare cinque di gioventù salivi Suonavano le quiete stanze, e le vie d'intorno, al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminile intenta dieci sedevi, assai contenta di quel vago avvenil che in mente avevi Era il maggio adoroso, e tu solevi così menare il giorno Io gli studi le giadri quindici talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'insui Veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce, venti e dalla men veloce che percorrea la faticosa tela Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte Venticinque lingua mortal non dice quel che io sentiva in senno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, o silvie mia Quale allorce apparì a trenta la vita umana e il fato, quando soviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura Trentacinque o natura, o natura, perché non rendi poi quel che promette allor, perché di tanto inganni i figli suoi Tu preache l'erbe in aridisse il verno, quaranta da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiomme, quaranta cinque or degli sguardi innamorati e Schivi, né te con le compagne ai di festivi ragionavano d'amore Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei cinquanta anche negaro i fatti la giovanezza Ai come, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme Cinquantacinque questo è quel mondo? Questi diletti, l'amor, l'opere, gli eventi onde cotanto ragionamo insieme Questa la sorte dell'umane genti All'apparire del vero sessanta tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano Parafrasi Silvia, ricordi ancora quel tempo della tua breve vita mortale quando nei tuoi occhi ridenti e timidi splendeva la bellezza E tu, felice e pensierosa, ti avvicinavi al fiorire della giovinezza Il tuo canto perpetuo risuonava nel silenzio delle stanze, e nelle vie attorno, quando sedevi presa dai lavori femminili, felice di Quel futuro misterioso che provavi a immaginarti Era il maggio profumato, e tu passavi così ogni tua giornata Io, di tanto in tanto, trascurando gli studi amati e le pagine su cui mi affaticavo, dove la mia giovinezza e il mio corpo andavano Consumandosi, dai balconi della casa paterna mi mettevo ad ascoltare il suono della tua voce, e il ritmo rapido delle tue mani affaticate nel tessere la piella Guardavo il cielo sereno, le vie color dell'oro, le campagne, e da un lato il mare, dall'altro le montagne Non esistono parole umane per descrivere ciò che provavo in quei momenti Che pensieri soavi, che speranze, che emozioni avevamo, mia cara Silvia Come ci sembrava la vita umana e il destino Quando ripenso a speranze così grandi, un dolore disperato mi strugge il cuore, e torno a dispiacermi della mia sventura O natura, natura, perché non restituisci mai quello che hai promesso, perché inganni così tanto le tue creature Tu, prima che l'inverno inari disse l'erba, Silvia, piccola mia, sfinita e vinta da una malattia occulta, morivi E non vedevi il fiore dei tuoi anni, e non ti accarezzava il cuore la lusinga per i tuoi capelli nerissimi, e per il tuo sguardo vergine Che fai innamorare, né le tue amiche, né i giorni di festa, chiacchieravano d'amore con te Dopo non molto, morì pure la mia speranza, anche a me il destino ha negato gli anni della giovinezza Ahimè, come, come te ne sei andata, cara compagna della mia gioventù, mia speranza rimpianta Sarebbe questo quel mondo? Questi piaceri, l'amore, le azioni, gli eventi su cui tanto abbiamo fantasticato È davvero questa la sorte del genere umano? All'apparire della verità tu, misera, sei caduta, e da lontano con la mano mi indicavi una tomba spoglia e la fredda morte 3 a Silvia, struttura e retorica La poesia è una canzone libera di indecasillabi e settenari con prevalenza di quest'ultimi 34 settenari e 29 indecasillabi L'ultimo verso di ciascuna strofa rima con uno dei versi che lo precedono Il componimento si divide in due parti quasi della stessa lunghezza VV1 31 e VV32 63 Questa poesia è un dialogo emozionato con diversi interlocutori Leopardi si rivolge ora a Silvia, ora alla natura, ora alla sua giovinezza perduta Per questo abbiamo molte apostrofi VV1, Silvia, VV29, o Silvia mia, VV36, o Natura, o Natura, VV43, o Tenerella, VV54-55 Cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme, VV61 Tu misera, il ritmo è incalzante grazie soprattutto alle anafore Che pensieri soavi, che speranze, che cori VV28-29, perché non rendi poi, perché di tanto VV38-39, questo è quel mondo, questi i diletti, questa la sorte VV56-59 Sempre per lo stesso motivo abbiamo la geminatio, ripetizione, o Natura, o Natura VV36, come, come passata VV53, e naturalmente che chiude la prima parte della poesia Che pensieri soavi, che speranze, che cori VV28-29 E le enjambemenza, suonava le quiete stanze VV78, peria fra poco la speranza mia dolce VV49-50, negaro i fati la giovanezza VV52-53, questi i diletti VV56-57, la fredda morte ed una tomba ignuda Mostravi VV62-63 Leopardi gioca molto con le figure di posizione Più che con le metafore, abbiamo chiasme io gli studi leggiadri, e le sudate carte VV15-16, fredda morte, tomba ignuda, VV62 Gli iperbati, ove il tempo mio primo e di me si spendè alla miglior parte VV17-18, agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza VV51-52 Molto dolce lo simoro lieta e pensosa VV5, che deriva dal precedente, non propriamente uno simoro, ridenti e fuggitivi VV4 Le metafore più importanti sono, il fiore degli anni tuoi VV43, cioè la giovinezza, e cara compagna dell'età mia nova VV54, per indicare la speranza, e quindi le aspettative del futuro Leopardi in questa poesia non usa molte metafore, per cui capiamo che le poche rivestono una particolare importanza, molto importanti anche le metonime sudate carte VV16, faticosa tela VV22, lingua mortal VVV27, per quanto riguarda i suoni della poesia abbiamo un trionfo della sillaba V presente anche nel nome Silvia, che produce numerose, allitterazioni, vita VV2, fuggitivi VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Nella prima parte, specie sul finire dei versi, i suoni aperti, a, e, mortale, v. 2, splendea, v. 3, contenta, v. 11, tarte, v. 16, tela. Nella seconda parte i suoni più chiusi soprattutto o ed è. 4 a Silvia, analisi del testo. Dopo un lungo silenzio poetico, 1823-1827, Leopardi torna a scrivere in versi cercando nei ricordi del passato l'ispirazione lirica. Rafforzandola però con le conclusioni filosofiche cui nel frattempo è raggiunto. La poesia esordisce con l'apostrofe, invocazione, a Silvia, e una domanda, ricorda, lei, la sua giovinezza. L'interrogativo resta senza risposta. Abbiamo solo il suo canto e la vivacità del suo sguardo nei ricordi del poeta. Silvia è, in verità scomparsa, scomparsa, esiste solo nella mente del poeta, ma lui con questa poesia ci dona una parte della sua storia. La parola rimembri, infatti, pone subito la dimensione temporale come punto focale attorno a cui, oltre a Silvia, ruota anche il Poeta, il prima, e il dopo, il passato felice, cui appartiene anche la speranza, quindi il futuro nel passato, il triste presente. Infatti Silvia è morta prematuramente, il poeta è ormai adulto e disincantato, e rimpiange la giovinezza che non ha vissuto. L'accostamento della parola vita all'aggettivo mortale lascia intendere la precarietà dell'esistenza. Le coppie di aggettivi potrebbero descrivere una qualsiasi ragazza di 18-20 anni, dagli occhi ridenti e fuggitivi, dagli sguardi innamorati e schivi. L'ambientazione è primaverile, era il maggio odoroso. V. 13. Questo dato temporale è allegoria della giovinezza, la primavera di ogni persona. C'è una barriera che divide i nostri due protagonisti, essi appartengono a due piani diversi leopardi in alto, nel chiuso della stanza. Silvia è nel mondo esterno e nel basso delle vie di Re Canati. È un amore da lontano, come quello degli antichi poeti provenzali. La voce di Silvia anima il silenzio, il paesaggio si colora, e il cuore del poeta accelera i suoi battiti, inebriato. La presenza dell'altro nella poesia leopardiana è una novità non trascurabile. Silvia aggiunge prospettiva al ragionamento leopardiano e profondità al suo pessimismo. Anche la poesia, dopo i dialoghi delle operette morali, diventa strumento di indagine filosofica molto più affinato rispetto agli idilli giovanili. Suonavano le quiete stanze V. 7. Scrive Leopardi. L'utilizzo dei tempi verbali è anch'esso molto importante. La giovinezza dei due protagonisti è connotata dall'utilizzo dell'imperfetto, che indica un'azione continuativa e indeterminata. Dopo l'attenzione riposta a Silvia, spicca l'io del poeta, il confronto si completa. Leopardi sta passando la sua giovinezza a studiare e a scrivere, il suo corpo, quel corpo che avrebbe bisogno di attenzione, viene invece trascurato, Silvia, invece, spende il suo tempo nelle faccende domestiche. In loro, però, c'è ancora la speranza del futuro, ed è la vita che non hanno ancora vissuto a renderli felici, perché riempiono il presente di aspettative. Il primo vuole essere un gigante della letteratura italiana, rivaleggiare con Foscole Monti, con Dante e Petrarca, ma, forse, soprattutto vuole avventure, amori, affetto. La seconda, forse, sognava di innamorarsi, di mettere su famiglia, diventare una brava madre, vivere serenamente, invecchiare con qualcuno al suo fianco. Il quinto. 32 è un punto di volta della poesia e cade a metà del testo. Quando sovviemmi di cotanta speme un affetto mi preme acerbo e sconsolato e tornami a doler di mia sventura. W. W. 32-34 Il contrasto tra le aspettative del passato e la realtà del presente è terribile. Ogni speranza è stata tradita, ogni aspettativa delusa, ogni promessa non mantenuta. La colpa, però, è da imputarsi unicamente alla natura che fa l'uomo desideroso di felicità e rende tale felicità impossibile, o natura. O natura perché non rendi poi quel che promette all'or, perché di tanto inganni i figli tuoi. W. W. 36-39 Le due interrogative rappresentano la battaglia titanica, inesausta del poeta nel trovare un senso alla condizione umana. Echeggiano, senza risposta, sopra un silenzio tombale. L'odio per questa natura maligna non spinge mai però il poeta a un rifiuto della vita che, anzi, viene amata con ancora più abbandono e tenerezza. Silvia, morendo per una malattia oscura, non fa in tempo a provare la sensazione. Il piacere di essere nel fiore degli anni, non viene lusingata per la sua bellezza, non sente gli sguardi degli innamorati su di lei, e sappiamo quanto sia bello piacere agli altri, né riceve complimenti per il suo sguardo timido. L'inverno della vita per lei non è mai arrivato, e quindi, se da una parte non ha provato il dolore e l'angoscia della vecchiaia, non ha però neanche vissuto appieno. La sua adolescenza Silvia ha vissuto solo quel maggio adoroso, quella primavera, di cui abbiamo parlato in precedenza, e questa ingiustizia, Leopardi la denuncia. Anche per Leopardi la situazione è simile, ha perduto la speranza, la vita l'ha disilluso, sono state troppe le ferite che ha dovuto sopportare. La giustizia non esiste. Ogni sorte è in baglia del caso e della mutevolezza. Ogni vita è destinata, presto o tardi, a disgregarsi e a soccombere. Si sono amplificate le conseguenze angoscianti del suo materialismo. Alla fine del percorso di ogni essere umano, e di ogni essere vivente in generale, c'è solo il nulla. La verità ormai gli è chiara. All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontana. VV. 6063 5 Guarda il video sulla poesia a Silvia di Leopardi 6 Consigli per approfondire l'opera e il pensiero di Giacomo Leopardi A Silvia rappresenta un intenso elogio della bellezza naturale e della libertà. Attraverso la figura di questa fanciulla che Leopardi aveva conosciuto a Recanati, la descrizione della natura circostante e della figura di Silvia si fonde in un unico affresco, rappresentando l'immagine di un mondo, ideale in cui la bellezza e l'armonia naturale si sposano con la libertà e la felicità umana. Questo componimento è importante anche per il suo messaggio di speranza e di rinascita, che emerge dal desiderio del poeta di trovare in Silvia e nella natura circostante una fonte di ispirazione e di rinnovamento. Se vuoi approfondire l'opera e il pensiero di Giacomo Leopardi ti suggeriamo alcuni libri. Meno 5 am.perkent Zibaldone di pensieri Nuova edizione tematica condotta sugli indici leopardiani Nuova edizione 23 euro e 74 centesimi 25 euro da vedi l'offerta all'arte di essere fragili Come Leopardi può salvarti la vita 29 euro e 99 centesimi da vedi l'offerta la vita di Giacomo Leopardi attraverso il suo epistolario integrale e ragionato volume 2820-1823, con tutte le lettere inviate e ricevute, note esplicative, illustrazioni, cronologia ragionata 16 euro e 99 centesimi da vedi l'offerta 16 euro e 99 centesimi da vedi l'offerta